amici di la zona appassionati di calcio benvenuti questo è l'Allianz Stadium Torino questa è Juve Lecce rovesciata un saluto da Piero Gipardo e Riccardo Montolivo e sì perché la giocata più spettacolare più acrobatica del gioco del calcio diventa una metafora perfetta per questa sfida con Lecce che si presenta dall'alto nei suoi 11 punti in classifica con i suoi numeri prodigiosi e proverà a fermare la Juve che ha voglia di riscatto dopo la sconfitta di Reggio Emilia Grazie a tutti